E con un super guizzo pasquale subito dopo praticamente i festeggiamenti della Pasquetta Bitcoin decide di fare il break dell'ultimo livello di resistenza che aveva bloccato dal 20 marzo circa quindi qualche settimana Bitcoin 28.500 lo breaka e per la prima volta ritorna sopra i 30.000 da più di un anno a questa parte ragazzi. Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video continua la fase positiva da parte di Bitcoin motivata da una serie di circostanze di cui ho parlato proprio anche ieri notte praticamente quando ero in versione post Pasquetta ragazzi tra le altre cose come mi sentite sono nuovamente un po' così così a livello di raffreddore niente di grave ma ne avevo parlato proprio sul mio canale Twitter ragazzi vi lascio il link in descrizione Per Twitter andatevi a seguire anche lì soprattutto perché mi interessava questa notizia qui quella della possibile candidato alla presidenza del Consiglio Robert Kennedy Junior ma al di là di questa cosa qui sono uscita una serie di news di cui un'altra l'ho pubblicata questa mattina relativa al Fondo Monetario Internazionale che parla di tassi che devono ritornare a livello pre-pandemia. Questa è una cosa abbastanza importante insomma un miscuglio di notizie positive che spingono Bitcoin a fare questo sdlancio ma l'analisi ciclica che cosa ci diceva? La chiusura del ciclo mensile in pratica ci sono due ipotesi ne parliamo oggi se è avvenuta un ciclo mensile è stato chiuso in barra di congestione vedete neanche affatto in pratica lo swinger in bassista altrimenti qui si tratta di un'anomalia lo ciclo ternario ne parliamo comunque oggi ma c'è anche la questione di Ethereum che domani affronta l'upgrade insomma la fase finale della purpose of stake il post e con l'aggiornamento l'aggiornamento Shanghai di cui ho parlato tra l'altro in un video dove vi spiegavo un po' quelle che erano le analisi di natura fondamentale e anche la fase di breve che bisogna tenere in considerazione per sfruttare al meglio quello che avverrà domani giorno 12 di aprile quando Ethereum ci sarà l'aggiornamento Shanghai vi lascio sopra la mia testa il link del video ragazzi andatelo a vedere perché è stra-importante detto questo vediamo un po' anche le notizie che ci sono proprio nella giornata di domani le più importanti proprio così un braccetto con Ethereum stiamo andando verso quelli che erano gli obiettivi di cui avevamo parlato all'inizio dell'anno 2023 cioè i massimi intorno alla fine di aprile e da qui in poi ragazzi raggiunti alcuni livelli già il primo era 28 il secondo e 32 siamo vicini ne parliamo anche tra poco ma raggiunti quei livelli si entra in un'altra fascia di diciamo così previsione per cui poi dovremmo ragionare in un altro modo perché diventa tutto secondo me più complesso un po' i giochi secondo me sono stati fatti per l'anno 2023 ma spero vivamente di sbagliarmi da questo punto di vista va bene ragazzi allora per iniziare la questione intanto vi dico che ho anche fatto un breve sondaggio per proprio su Twitter ragazzi oggi perché mi interessava andare a vedere un po' le risposte a questo sondaggio qui ragazzi cioè Bitcoin è arrivato oppure a riraggiunge 32-35 l'ho pubblicato pochi minuti fa ma guardate come tutte le risposte sono praticamente vicine questo significa una sola cosa cioè c'è un po' di indecisione e un po' forse questo buzz di Bitcoin ha lasciato un po' scioccati moltissimi che si aspettavano non so magari il famoso pullback sulla fascia dei 25 di cui io stesso ero fortemente negativo perché vi dicevo che se saremmo andati lì probabilmente il mercato poi si indeboliva troppo quindi era troppo una dip facile ragazzi il mercato ha dato una sola dip di cui abbiamo parlato due mesi fa in quel famoso video degli ingressi per gli holder se continua a salire non ne dà più di dip secondo me rilevanti ovvio che dal mio punto di vista i giochi per l'annuale 2023 secondo me sono quasi fatti manca qualche mese allora andiamo a vedere quello che c'è domani ragazzi domani c'è il tasso di infrazione degli Stati Uniti che è previsto ancora in forte decrescita ora questa cosa qui è molto interessante andare a vedere perché è un tasso comunque inferiore al 5,2 secondo me i mercati festeggiano ulteriormente anche domani vi ricordo che anche Nasdaq non solo Bitcoin anche Nasdaq 100 ragazzi e gli altri mercati sono comunque entrati in una sfera risk on quindi come se un po' si aspettassero che la Federal Reserve abbia in pratica terminato quello che è la loro attività di rialzo dei tassi e si entra sostanzialmente in una nuova e completa e diversa fase cioè quella addirittura dell'attesa di un possibile ribasso dei tassi perché siamo entrati appunto in modalità risk on fermo restando che per il meeting di maggio ragazzi comunque si ci attesta ad un rialzo del 0,25 quindi ci si attesta a questo rialzo qui ragazzi 0,25% perciò a prescindere i mercati stanno scontando comunque un rialzo anche a maggio allora detto questa questione riprendiamo i dati macro secondo me il giorno vero che è molto rilevante è quello di domani ci sono anche i sussidi di disoccupazione guardiamoli perché se non c'è una abnorme differenza con i precedenti ragazzi secondo me cambia ben poco questo invece è un dato interessante se in linea con quello che vediamo non ci sarà granché però il 12 oltre a esserci dati che quindi potrebbero creare un po' di volatilità c'è anche questo aggiornamento di Ethereum che dovremmo andare a vedere perché ragazzi Ethereum è ancora al di sotto sul livello di resistenza l'altro giorno aveva provato a breccare non ci è riuscito e è tornato indietro quindi detto questo facendo diciamo questa carrellata vi parlo anche della news più importante che ho pubblicato ieri sempre su Twitter cioè il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Robert Kennedy Junior si esprime in maniera fortemente favorevole anche contro le Bitcoin parla male della questione legata anche al fatto che ci sia una superbolla nei mercati classici e che Bitcoin può essere una via di fuga proprio per tantissime persone quando ci sarà un bagno di sangue in pratica quindi una superbolla che deve essere oggettivamente dovrebbe essere quella della quantità di liquidità presente che è confluita per la stragrande maggioranza nei mercati hold quindi nelle stocks soprattutto e insomma ha causato anche noi nel mondo questa super tasso di inflazione allora detto questo è comunque un cambio di paradigma per quanto riguarda quello che stiamo vivendo da più di un anno cioè dalla presidenza Biden perché in sostanza qui abbiamo dei candidati c'è anche il possibile candidato l'attuale sindaco di Miami altro possibile candidato alla presidenza degli Stati Uniti anche lui molto favorevole a Bitcoin e contrario alle central bank cripto digitali insomma alle valute digitali delle central bank e però ragazzi tutto questo in sostanza sono parole dei politici quindi pesano praticamente il nulla sotto il nulla però concettualmente c'è un po' un cambio di logica questo è il vero significato cioè si sta ragionando in maniera diversa nei confronti di Bitcoin e delle cripto rispetto a quello che abbiamo visto finora dove c'era proprio una lotta continua poi da qui a fare qualcosa ce ne passa tanto però sicuramente sono notizie positive che vanno prese e tenute in considerazione proprio per giustificare anche quello che è la fase attuale ragazzi scusatemi se mi sentite un po' di dubbante un po' annebbiato sono un po' sotto farmaci quindi però volevo fare questo video perché riesco a parlarmelo appena volevo fare questo video perché non ci vediamo da venerdì quindi lasciatemi un po' il ligione perché sono veramente cotto quindi magari se non ho la linearità solita è per questo allora andiamo a vedere l'analisi ciclica di Bitcoin ragazzi questa è la struttura del ciclo semestrale di Bitcoin che io ho posizionato intorno a 170 giorni ora ve lo dico in maniera molto molto chiara questo è un ciclo che può tranquillamente allungarsi anche fino a circa 200 poi di solito è un po' eccessivo ci sono alcune anomalie eccetera però questa zona, questa zona qui diventa una zona molto importante perché da lì il mercato potrebbe andare a fare effettivamente quello storno magari che qualcuno si sta aspettando cioè la chiusura di questo ciclo semestrale fino alla fase di inizio della close del ciclo semestrale ragazzi di Bitcoin ciclo annuale vi ripeto iniziato a novembre fino all'inizio di quella fase difficilmente Bitcoin farà fasi di bassiste rilevanti rilevanti intendo dove va a perdere un bel po' la chiusura del ciclo semestrale potrebbe essere una di queste attenzione che poi ci sono alcune anomalie adesso ve le spiego perché per esempio nell'ultima close del ciclo trimestrale Bitcoin si è buttato giù di un 22% questo giusto per farvi capire questa è anche molto pronunciata comunque ha fatto un mensile ribassista insomma ha fatto delle cose abbastanza rilevanti quindi qualora questa zona rispetti una teoria ciclica come quella che stiamo vedendo ragazzi cioè qualora rispetti lo standard ciclico quindi due cicli trimestrali che compongono un ciclo di semestre che a sua volta è metà dell'annuale iniziato a novembre allora se questa che è praticamente la teoria la BC dell'analisi ciclica viene rispettata da Bitcoin la sua fase di up ai giorni contati per questo ciclo perché dovremmo andare a chiudere poi questa fase qui e una volta che siamo qui dovremmo poi capire quando ci siamo arrivati a che punto siamo se Bitcoin ha la possibilità di fare un altro slancio nel secondo ciclo semestrale quindi nella seconda parte del ciclo annuale questo è un po' il mio dubbio al momento io non mi sento di prendere posizione da questo punto di vista perché voglio prima vedere cosa farà il mercato in questa close del ciclo semestrale quindi ok l'app quali sono le resistenze adesso ve le faccio vedere però ricordatevi che il tempo è un po' tirato quindi da un punto di vista di analisi ciclica questo significa che fra un mesetto magari potremmo iniziare ad averne concluso questa fase ragazzi questa fase è iniziata a novembre e ovviamente in questa fascia temporale i giochi sono stati fatti se da qui noi continuiamo a salire allora c'è un nuovo ciclo annuale molto forte di Bitcoin molto più forte delle attese e cambierebbero tanti paradigmi ne parliamo magari in un video dedicato anzi se vi fa piacere questo tipo di logica facciamo anche una live dove stiamo tutti insieme facciamo così scrivetemi nei commenti se va bene per voi insomma organizzare una live dove parliamo solo del ciclo annuale di Bitcoin quindi solo medio-lungo periodo e ragioniamo insieme anche su queste vicissitudini sarebbe interessante ragazzi magari ritiriamo giù quelli che sono stati i video precedenti di target price Bitcoin che praticamente abbiamo preso tantissimi anni fa i famosi 67.000 va bene allora detto questo i livelli di resistenza attuali sono 30 questa zona qui ragazzi tutta questa fascia fino alla parte dei 32 quindi tutta questa fascia qui che è la precedente fascia di oscillazione come vedete a molti piace magari visualizzare queste aree con l'indicatore volumetrico quello che indica anche i pochi io non lo faccio perché non ne ho bisogno ragazzi quanto le vedo ad occhio ormai no però comunque concettualmente è lo stesso concetto per chi di voi magari utilizza quello strumento sappia che sostanzialmente io ragiono nello stesso modo solo che non lo metto su perché non ne ho bisogno guardo direttamente i prezzi allora detto questo discorso qui in teoria ragazzi proprio i 30.000 vedete rappresentano uno spartiacque nella fascia superiore quindi di estensione di questa area di oscillazione ci sono i 32 che comunque distano veramente poco e qualche punto percentuale successivamente c'è un macello di oscillazione che riguarda l'anno 2021 io ne terrei lo terrei in considerazione ma molto meno di quello che pensate perché perché è un periodo molto vecchio ora cosa succede con i periodi molto vecchi di oscillazione i mercati sono legati a quei periodi ma non così tanto come quelli recenti questo è un argomento che ho sviscerato all'interno del corso basic dove ho cercato di far capire proprio agli studenti che i livelli di supporto e di resistenza dopo un tot di tempo decadono si definisce proprio così cioè non sono più rappresentativi perché sono troppo nel passato bitcoin ha un tasto di decadimento dei livelli di supporto e di resistenza molto alto attenzione quindi in questo caso c'è da valutare questa fascia però secondo me il vero 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 livello di resistenza poi sarà i 35.000 questa zona qui che rappresenta anche lo 0,38 di fibonacci quindi di ritracciamento di fibonacci di questo super trend al ribasso ciclicamente come vi dicevo secondo ciclo mensile iniziato probabilmente intorno alla decada di aprile come ci aspettavamo ma non c'è una zona di minimo quindi in teoria bitcoin potrebbe anche optare per una versione ternaria si definisce così cioè per star facendo in pratica una struttura ciclica a tre movimenti uno due questo qui politernario e l'ultimo finale io adesso insomma sono andato molto su ragazzi però l'ultimo finale che concluderebbe appunto tutti e due i mensili in pratica questa figura ternaria indicherebbe il ciclo mensile chiuso il 27 di marzo solitamente il mercato non è che patteggia per l'uno o l'altra si auto si automodifica no? quindi col passare del tempo ha anche poco senso un po' ragionare in questo modo perché a meno che non stiate facendo trading intraday o comunque qualcosa da uno o due giorni non ci porta più di tanto dopo aver chiuso il ciclo mensile ragazzi tanto inversione di trend non ne ha mai fatto segnali ribassisti non ne ha mai dato quindi anche insomma indicando diciamo una strada a ribasso fondamentalmente non c'erano il mercato non ha mai dato neanche un trigger no? una segnale di inversione di trend per cui dico ok cavalco vi ricordo che io sono un trend follower ragazzi e quindi trend is your friend come vi ripeto da 5 anni perciò neanche sulle supposizioni più convinzioni maggiori io andrò contro il trend di mercato quindi aspetto sempre un segnale del mercato qui segnali di inversione short non sono mai avvenuti perciò a prescindere se qualcuno ha preso profitto perché pensava magari alla chiusura del ciclo mensile di bitcoin doveva comunque rientrare al breakout dei massimi precedenti questo secondo te di analisi ciclica ma ovviamente era sbagliato anche lì no poi questo dipende dalle proprie strategie di trading ognuno ha alle sue ragazzi per io vi ricordo sempre quelle che sono le regole generali che dopo vent'anni insomma di esperienza hanno funzionato in mille mille mercati diversi e soprattutto con bear market di tanto tipo non solo crypto vi ricordo che io vengo anche dal settore hold quindi ero comunque un trader già degli indici durante le bolle di internet eccetera allora questa zona qui perciò che sia o un mensile che è stato chiuso qui e poi sta facendo il secondo mensile o che sia un ternario va a concludere la sua fase e quindi a creare in pratica una fase di zona del ribassista a maggio il famoso minimo di maggio che in questo caso non sarà certamente un minimo storico ma sarà un minimo relativo cioè solo di fase detto questo ragazzi quando può essere prevista la fase di up e che è di massimo a livello temporale teoricamente qui intorno al 20 barra 25 di aprile questa zona qua poi da lì in poi si entra in cluster statistici di eccesso cioè dove il mercato sale ancora di più e bla 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 però in sostanza mancherebbero più o meno due settimane quindi fra due settimane bitcoin potrebbe in effetti dettare voi dei prezzi che andrebbero visti ma comunque ci sarà tempo di parlarne quindi questo da un punto di vista di livelli di resistenza livello di supporto è il super pullback in questo caso 28.000 quindi il ritorno qui dentro secondo me se bitcoin arriva qui si va poi in chiusura di tutta questa fase ragazzi quindi inizierebbe secondo me proprio una fase da tenere in considerazione per la chiusura appunto del ciclo semestrale prevista per fine maggio i primi di giugno detto questo passiamo a vedere Ethereum perché Ethereum ha la questione Shanghai Gapaya domani ed è importantissimo andare a comprendere che Ethereum non è riuscito ancora a breccare in maniera consistente questo livello perché ha fatto il break dei 1850 e va bene poi ha fatto questo mini pullback però ragazzi la parte up è arrivata solo a 1900 quindi in sostanza queste sono oscillazioni i rumori di fondo non è riuscito a fare granché a questo punto tutta questa area aggiornata da parte di Ethereum cioè il breakout dei 1850 non ha sancito lo sviluppo fino a 2000 che doveva essere immediato secondo me il ritorno sui propri prezzi tra l'altro è venuto qui che come vi faccio vedere anche la differenza rispetto a Bitcoin sembra proprio indicare questi 3-4 giorni di ribasso la chiusura del ciclo mensile quindi a differenza di Bitcoin sembra che Ethereum il ciclo mensile l'abbia fatto da 30 giorni quindi proprio preciso però anche qui ragazzi questi livelli di massimo se non vengono breccati non può continuare a spingere c'è qualcosa che non è andata su Ethereum probabilmente la paura dell'aggiornamento di domani ma un breakout di questo livello doveva avere un impulso molto più ampio a questo punto quindi dal mio secondo insomma quelle che sono le mie regole di trading tutta questa fascia secondo me diventa un livello di resistenza perciò solo al di sopra dei 2000 Ethereum continuerà uscirà definitivamente da tutta questa struttura ma non è più il livello di 18,5 perché non ha dato il balzo desiderato dal mio punto di vista io sono sempre long su Ethereum ragazzi anche per le posizioni di Nold in Academy questo mese non siamo riusciti a entrare in posizione per il mese di aprile perché intanto c'è stata la Pasqua di Mezzo che ci ha bloccato e i prezzi di Bitcoin sono saliti troppo velocemente però noi abbiamo diverse strategie o almeno in Academy quelle che sono le mie strategie sono diversificate in base agli orizzonti temporali quindi abbiamo quelle di lungo che sono sempre long su Bitcoin e Ethereum poi quelle della settimana e quelle del mese quindi io ho diversificato così poi lì ci sono tanti analisti altri analisti altri trader fanno delle cose pazzesche vanno in short io non faccio short ma loro si per esempio quindi insomma ci sono tante altre cose però io vi parlo sempre qui sul canale di quello che faccio io quindi non quello che fanno gli altri perché lì veramente ragazzi la pagina dei profit e loss abbiamo una bacheca dove si condividono i risultati è sempre bello io voglio riprendere vado lì e vedere quanto gain hanno fatto poi magari pubblicano solo i gain non lo so questo ragazzi però vado sempre lì a vedere allora detto questo però sullo slancio di Ethereum noi siamo cioè io sono sempre long ancora ragazzi però un po' no anche lì Ethereum è tirato domani vediamo come va la questione Shanghai Capella dai miei sondaggi io un po' la puzza che domani Ethereum si spari un bel app proprio a schiaffoni a tutti quelli che pensano che dopo questa update succeda un disastro ma un po' ce l'ho ragazzi però non è un'informazione statistica né l'ho vista sui grafici ma è solo a titolo personale perché di solito i mercati un po' sono stronzi scusate il termine e quindi che fanno fanno prendono schiapponi quelli che si mettono contro trend vabbè detto questo se eventualmente domani ETH dovesse dare un super slancio la zona nuova di resistenza dopo i 2000 dollari sarà 1180 poi c'è quella altissima qui a scusate 2180 poi c'è quella altissima qui a 2004 va bene detto questo domani ci aggiorneremo anche per quanto riguarda quello che sta succedendo in real vediamo un po' cosa faranno i mercati in attesa anche dei dati macro eccetera forza bitcoin siamo tornati a 30.000 ragazzi a 30.000 a 30.000 e c'era ancora chi diceva ma no dobbiamo arrivare a 9 7 8 io mi ricordo molto questa cosa perché lo si diceva anche nelle altre fasi di bear market quando si diceva che gli ultimi 3.600 non bastavano bitcoin deve tornare a 1900 va bene a 900 ve lo ricordo io una volta sono riuscito a prendere 20 anni fa ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti